In questo patrimonio culturale eccezionale che caratterizza le Marche, il lievito che mi ha spinto e che mi ha indotto a rimanere nelle Marche. Io sono venuta nelle Marche nel 1966, ero allora un giovane architetto, avevo vinto un concorso al Ministero della Pubblica Istruzione, quello che poi sarà il Ministero dei Beni Culturali e avevo vinto questo concorso come architetto di sovrintendenza. Io e mio marito abbiamo sempre cercato una casa fuori d'Ancona perché eravamo incantati dal paesaggio, dal mare, nelle Marche. C'è la cultura, c'è il paesaggio, ci sono i monumenti. Non a caso, non a caso Raffaello Bramante sono nati nelle Marche e la loro prima giovinezza l'hanno trascorsa nelle Marche. In epoca rinascimentale, il grande momento delle Marche e anche il momento in cui il paesaggio marchigiano ha incominciato ad assumere la sua configurazione attuale che ancora è abbastanza leggibile. Poi l'altra grande trasformazione del paesaggio c'è stata nel 700 quando ha preso corpo la mezzeria, però il paesaggio aveva già assunto la sua struttura, è riconoscibile. Queste sono le Marche, così come le ho percepite io, avendo appunto svolto il ruolo di commissario per i beni culturali delle Marche danneggiate dal terremoto, ho avuto proprio modo di sperimentare, anche lì la civiltà, il senso di comunità, non ci sono state mai scene, anche quando gli edifici erano distrutti, non ci sono mai state scene di esagitazione come ahimè si sono viste in altre parti d'Italia, tutto molto tranquillo, tutto molto tranquillo. Mi ricordo una chiesa giù nell'alto maceratese che stavano lì e dicevano ma guarda avevamo appena finito di restaurare l'organo, capito? C'era anche un senso di gratitudine per quello che si feceva, un grande senso di cooperazione, per esempio ho lavorato benissimo con i sindaci. Queste sono le Marche, così come le ho percepite io e quindi uno rimane nelle Marche, c'è la bellezza, c'è questo grande senso di civiltà e di comunità che ti aiuta a vivere, ti aiuta a vivere bene, ti mangia bene. Quando sono andata in pensione per, come si suol dire, raggiunti i limiti di età e anche adesso continuo a fare delle cose, scrivo, ho fatto dei libri e poi facciamo parte di varie associazioni, per cui studi sempre, ti devi sempre aggiornare, veramente insomma non mi sento in una pensionata, in pensione non ci si va mai.